Ma questo è davvero il mio dito, ma basta per favore, per favore basta, stop, fermiamo questo scempio! Buonasera! Buonasera, cosa diavolo è questa roba? E' un film di Charlie Chaplin, del 1940, si chiama Il grande dittatore. Ho capito, ma la musica è mia! E beh certo, è il preludio al primo atto del suo Olohengrin, ha ottenuto cinque nomination all'Oscar del 41. Oscar? Ma cosa sta blaterando? Ma poi chi è lei, scusi? Ma non ha importanza, poi si ricorda, per l'intervista l'avevo... Ecco, vede, poi diciamo che sono un suo ammiratore. Un wagneriano duro e puro, siamo tanti, sa? Sì, ecco, mi stupirei del contrario, ma d'altronde la calda e feconda partecipazione alla mia opera mi è sempre venuta dai ceti inferiori, piuttosto che dalle alte sfere. Vabbè, comunque adesso non esageri. Comunque pochi musicisti sono stati amati e odiati, imitati e disprezzati quanto lei. Non si poteva essere indifferenti al mio genio, però lei non deve cambiare discorso. Perché usare il Olohengrin per quello stupido che gioca con un mappamondo, me lo spieghi? Eh, ma perché è uno strepitoso contrasto tra la sublimità della sua musica e la ridicola volontà di potenza del dittatore. Ecco, capisco, ma allora temo che questo signor Chaplin non sia stato l'unico. No, beh, tutt'altro, perché il cinema l'hanno usata un sacco di volte, nei contesti più disparati, non so, la cavalcata delle Valkyrie con gli elicotteri di Apocalypse Now di Coppola, la marcia funibre di Siegfriedo con i cavalieri di Re Artù di Excalibur di John Borman, il preludio del Tristano in melancolia di Lars von Trier, e poi c'è Ludwig di Lucchino Visconti. Basta, basta, questi nomi che tanto non li conosco, e tanto non mi hanno mai dato un soldo. Le ricordo che lei adesso è di pubblico dominio. Questa è un'espressione volgare, però. Ma non pensi sempre solo al denaro, e poi non c'è matrimonio che si rispetti che non usi la sua marcia nuziale dell'Oingren. Ecco, di quello non so se esserne orgoglioso o vergognarmene. Ma è il prezzo della fama. Lei in un certo senso è la colonna sonora della Germania. Bastano due accordi e il pubblico capisce che arrivano i cattivi, anche nei cartoni animati. In ogni caso, i registi sono una banda di cialtroni. In effetti, a giudicare da come mettono in scena le sue opere in Germania negli ultimi anni, non mi sento di dissentire. Siegfriedo in canottiera. Cosa? Certo, che spignate in una cucina con tutte le piastrelle rotte, o dei topi giganteschi che si aggirano in palcoscenico. Ma come topi? A parte le banali uniformi naziste di tanti personaggi. Sono veramente degli ignoranti, ma i direttori d'orchestra non protestano? Solo qualche volta. Sa, sono tempi difficili. Guardi, io l'ho detto, l'ho scritto un sacco di volte, ci vuole un assoluto accordo tra testo, musica e azione scenica. Deve occuparsene una sola persona. Eh, ma pochi hanno avuto la sua capacità di scrivere testo e musica per le proprie opere. Penso che nessun artista abbia avuto un'influenza altrettanto forte sia nel proprio campo, sia nelle altre arti come lei. Io ho cambiato la storia dell'opera e ho cambiato anche il corso della cultura europea. E solo che a scuola, almeno qui da noi, non lo spiegano. Senza conoscere la sua musica non si possono comprendere, che so, il simbolismo o il decadentismo. Baudelaire ha fatto appugni alla prima parigina del suo Tannheiser, come oggi capiterebbe, che so, allo stadio. Baudelaire, finalmente un francese come si deve. Sì, sì, però adesso si calmi. Woody Allen sostiene che quando l'ascolta sente il desiderio di invadere la Polonia. Ecco, non sarebbe una cattiva idea. Maestro, scusi, adesso non è che possiamo dire. Sia cauto. In Israele ancora oggi è molto difficile eseguirla, senza che qualcuno in sala non protesti, magari rumorosamente. Andiamo, temo che questo sia un discorso un po' lungo e articolato. Sì, beh, chiunque abbia visto il Signore degli Anelli ci troverà tanti elementi della sua tetralogia, che come diceva George Bernard Shaw, con tutti i suoi dei, i suoi giganti, i suoi nani, le ondine, le valchirie, l'elmo magico, la spada fatata e il tesoro miracoloso, è un dramma dei nostri giorni e non di un'antichità favolosa e remota. Il Signore degli Anelli? Ma di cosa sta parlando? Io credo che questa storia dell'anello possa essere un plagio, bello e buono. Beh, il grosso pubblico, quello che di musica classica non sa niente, non sa che lei ha scritto il ciclo dell'anello del Nibelungo, che somiglia un po' a quello di Tolkien, da cui hanno tratto i film. Lo scrittore però diceva che l'unico elemento in comune fra i vostri due anelli è che sono entrambi rotondi. E lei gli crede? Beh, diciamo che avete attinto alle stesse fonti, le saghe nordiche, che descrivono un mondo senza politica, senza il concetto di Stato, senza la storia. Sono testi straordinari che però possono essere utilizzati in modo un po' perverso. Sarebbe a dire? Negli anni settanta Il Signore degli Anelli era il libro preferito dagli Ippis, ma anche dai neofascisti che organizzavano campi paramilitari sugli Appennini. Quindi secondo lei quei volumi non vanno letti? Ma certo che vanno letti, solo che bisogna capire il contesto, bisogna rendersi conto delle implicazioni che in fondo ce li fanno apprezzare anche di più. Guardi questo filmato, la musica la riconosce di sicuro, è il preludio dei suoi maestri cantori di Nuremberg. Sì, 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 sì. A parte la direzione che non esiterei a definire eccellente, io ho capito dove lei vuole andare a parare. Le ho viste quelle croci uncinate, i volti assorti degli operai militari feriti in guerra. Questa è tutta propaganda e io non c'entro. Beh, in effetti sì, eh. Siamo a Berlino in uno stabilimento dell'Aeghe durante la Seconda Guerra Mondiale. Wilhelm Furtwängler è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento e aveva scelto di non abbandonare la Germania durante il nazismo e continuare a dirigere anche alla presenza dei gerarchi del partito oppure in occasioni come queste. Il fatto che suonassero delle mie musiche per tenere alto il morale dei tedeschi le fa forse cambiare parere su di me? No. Ma deve ammettere che lei è stata una figura controversa. Guardi, me ne vanto di essere stata una figura controversa. E poi Adolf Hitler... Suo grande ammiratore? Sì, lo so, ma allora... Allora, voglio dire, lui è andato al potere 50 anni dopo la mia morte. Io non c'entro. Vabbè, allora parliamo un po' di lei, va. Buonasera. Sono nato il 23 maggio del 1813 a Lipsia, al Leone Bianco e Rosso, secondo piano. Fui battezzato due giorni dopo nella chiesa di San Tommaso. Mio padre, Friedrich Wagner, era segretario alla direzione di polizia della città. Mia madre... Un po' più conciso, perché lo so, le sue opere è meno di quattro ore mai, però non è che qui poi... Va bene, d'accordo, va bene. Intanto cominci a dire la verità. In un'edizione praticamente scomparsa della sua autobiografia, che negli anni del successo lei ha dettato a sua moglie Cosima, lei comincia in un modo lapidario. Io sono figlio di Ludwig Geyer. No, io non c'entro. È stata un'idea di mia moglie. Ah sì, eh? E non si è mai chiesto perché? Perché il signor Geyer, attore, pittore, era già amico di mia madre prima del prematuro decesso di mio padre. Ecco, quell'uomo in pratica mi adottò. Nei miei primi anni di scuola io sono stato registrato come Richard Geyer. Sia sincero, per favore. E che poi sposò mia mamma, le diede anche una figlia, ecco il taglio di quella frase è frutto degli scrupoli morali di quella borghesuccia di mia moglie. Beh, senta, non scherziamo, Cosima List, che poi è diventata sua moglie, era una delle donne più libere, indipendenti e, diciamo pure, immorali che ci fossero in circolazione. Ha lasciato il marito, il direttore d'orchestra Hans von Bülow, dopo aver confessato di essere incinta di lei e ha fatto pure in modo che lui non facesse una piega. Ce la conti tutta? Ludwig Geyer era ebreo e lei è figlio illegittimo di un ebreo. Ma sì, così sostengono molti dei miei biografi. Eh, volevo ben dire. Questo chiarisce un sacco di cose. È un invito a nozze per i critici psicoanalitici. Possiamo parlare di musica adesso? Ma sì, certo. Lei ha cominciato dalla gavetta. Guardi, questo lo può ben dire. Tra i 20 e i 25 anni viva Chiavo nella monotona routine del tipico maestro di cappella nei teatri di provincia. Magdeburgo, Königsberg, Riga, poi... Apprezzo il suo understatement. Il termine viva Chiavo è molto elegante. Lei da Riga è scappato per debiti in modo piuttosto avventuroso. E allora? Ma fa anche lei il moralista? Io sono un creatore. Non ho tempo da perdere con queste cose. Lei ha passato la vita a scappare. Dagli ammiratori? Direi piuttosto dai creditori e anche dalla polizia. Ah, guardi, io nel 48 sono stato sulle barricate di Dresda. Ero amico di Bacuni. Eh, certo. Diciamo che ha avuto una gioventù errabonda. Guardi, legga la mia autobiografia. È avvincente come un romanzo. Eh, non si paragoni a Oscar Wilde, che non è il caso. Comunque le devo dare atto che pur dovendo stare attenti a tutte le bugie che lei ci ha infilato dentro, è una lettura piacevolissima e direi anche istruttiva. Le autobiografie degli uomini famosi, specie se a metterci le mani sono le mogli, sono quasi più interessanti per quel che manca che per quel che c'è. Ma mio caro, ma pensi a benvenuto Cellini? Sì, 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 non divaghiamo. Allora, guardi, la vita teatrale tedesca era davvero meschina. Gli allestimenti erano miseri, sciagurati. Io mi sentivo avvinito. Dovevo lavorare. E mi chiedevo cosa mai avrei dovuto fare per affermarmi in quello strano mondo dove ero ugualmente combattuto fra desiderio e disgusto. Così è andato a Parigi? Sì, tra il 1840 e il 1841. Ho fatto la fame. Campavo riducendo per canto e pianoforte le opere alla moda, quella robaccia francese, italiana. Non sia ingiusto adesso. Guardi, l'equilibrio di giudizio lo lascio ai critici come lei. Io sono un creatore e dico quello che mi pare. Ho dovuto trascrivere per tre tromboni delle arie della favorita di Donizetti. Guardi, ha ragione Robert Schumann. Quella è porcheria. Musica da teatro di burattini. I suoi biografi dicono che in quegli anni le sue attenzioni erano equamente divise tra il Monte di Venere e il Monte di Pietà. Ma cosa fa? Provoca? No, 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 me ne guardo bene. Lei è uno dei miei idoli. Insomma, a parte qualche cosetta sinfonica, lei ha cominciato a vent'anni con un'opera magica. Le fate. Sì, il soggetto l'ho preso dalla Donna Serpente, scritto da un suo connazionale, il Carlo Gozzi. Poi nel 35, il divieto d'amore. Da misura per misura di Shakespeare. Nel 40, Rienzi, l'ultimo dei tribuni. Dal romanzo storico di Edward Balwer Litton. Lei è un ottimo lettore. Ma guardi, ogni musicista deve leggere. Soprattutto se, come me, oltre a scrivere la musica, scrive anche i testi. Rienzi è stato il primo vero successo della sua carriera. Ah, guardi, mi ha assicurato alcuni anni di tranquillità economica, di stabilità lavorativa. Grazie alla mia fama di giovane operista mi hanno assunto come maestro di cappella a Dresda nel 1843. Beh, non era male per un trentenne. No, in effetti no. Però Rienzi non era, non è un'opera veramente originale. Tant'è vero che a Bayreuth non è permesso di rappresentarla. È un grande opera nello stile francese. Soggetto storico, cinque atti, balletto. Ma per farsi conoscere non avevi scelta. L'ha ripudiata? Ma no, non proprio. Ma nel mio saggio Opere e dramma del 1851 ho spiegato chiaro e tondo che i soggetti storici non vanno bene perché il pubblico li comprende con i meccanismi analitici dell'intelligenza mentre il mito, con la sua naturale semplicità, è immediatamente intuibile dal sentimento. Andava del tutto controcorrente. Non è facile trovare dei teatri dove realizzare le sue teorie. Guardi, solo con l'olandese volante ho chiuso la mia carriera di confezionatore di libretti per cominciare poi a fare il poeta. Se scegli un soggetto storico convenzionale devi essere verosimile e devi riempire l'opera di una folla di dettagli realistici che sono solo decorazioni. Come si faceva in Francia e in Italia. Appunto, meglio dedicarsi al mito, alle antiche saghe che a qualsiasi età o nazione appartengano hanno il pregio di cogliere di tale nazione ed età solo ciò che è puramente umano e di rappresentare questo contesto in una forma pertinente solo ad esso. E perciò, subito comprensibile, con l'olandese volante ho cominciato a muovermi in quella direzione. l'ha mandata in scena a Dresda nel 1843 dopo aver fallito a Parigi. Parigi era la vera vitrina della musica europea. Ma di questa partitura non volevano sentire ma neanche una nota. E sbagliavano, perché l'olandese volante è un capolavoro. È la storia di una donna che si sacrifica per redimere un misterioso marinaio che non riesce a morire e trovare così la pace. La musica è straordinaria. La natura entra prepotentemente in scena e l'orchestra ribolle come un mare in tempesta. La ballata di Senta, la protagonista, è uno straordinario manifesto del romanticismo tedesco. Un racconto allucinato che guarda con decenni di anticipo ai leberinti della psicanalisi e dell'espressionismo. Mai un'orchestra d'opera aveva suonato in quel modo né una voce era stata così intimamente sommersa in quel turbine di suoni. Però visto che lei è anche il poeta ci dice i versi ma molto, molto volentieri. In contraste il vascello sul mare rosso sangue le vele l'albero nero sull'alto bordo l'uomo pallido signore del vascello veglia senza tregua come sibila il vento come fischia nel cordame come una saetta via se ne vola senza meta senza sosta senza riposo pure ancora potrà all'uomo pallido giungere un giorno la redenzione se troverà una donna che sulla terra fino alla morte gli sia fedele. Ah pallido marinaio quando la troverai? Pregate il cielo che presto una donna gli sia fedele con brutto vento furore di tempesta un capo un giorno egli volle doppiare e bestemmiò e giurò con folle orgoglio non smetterò l'eterno e Satana lo udì e lo prese in parola e dannato ora saggira per mare senza sosta senza riposo ma perché lo sventurato ancora possa trovare redenzione sulla terra rivelò un angelo di Dio come un giorno gli giungerà salute potessi pallido marinaio trovarla pregate il cielo che presto una donna gli sia fedele all'ancora ogni sette anni per sposare una donna egli scende a terra ogni sette anni egli ha scambiato una promessa ma ancora non ha trovato donna alcuna che gli sia fedele via nel mare senza sosta senza riposo beh non è facile far ascoltare brani separati dalle sue opere a partire da questo olandese volante e poi via via fino a Parsifal la sua musica è sempre più un flusso continuo senza cesure senza interruzioni senza le arie come facevano Verdi o Bizet perché loro scrivevano solo opere come solo tendo a dire che si limitavano alla musica che non è sufficiente io volevo uno spettacolo che contenesse tutto come la tragedia greca che avesse il respiro lungo come la vita in questo io sono più realista di loro a parte questa ballata che ho scritto da giovane io non faccio mai i ritornelli perché nella vita i ritornelli non ci sono la rappresentazione a Dresda andò così così ma poi l'olandese volante ha cominciato a girare per tutti i teatri tedeschi Felix Mendelssohn aveva assistito alla prima berlinese con la sua faccia smorta e mi chiedeva con bonomia indifferente allora potete essere contento eh ma adesso non si metta a fare l'antisemita solo perché lui era famoso e veniva da una famiglia ricca e influente guardi ma ma se anche fosse solo perché ho scritto qualche saggio un po' esplicito mi gettate la croce addosso guardi che tutti in Germania anzi tutti in Europa erano antisemiti è inutile negarlo l'antisemitismo non è nato con me però gli antisemiti l'hanno usata sia con i suoi scritti sia con la sua musica certo ma io non c'entro e poi guardi il più razzista dei miei ammiratori era il marito di mia nipote Eva Houston Stuart Chamberlain che era inglese a suo confronto io ero un ingenuo agnellino e poi lei di certo saprà che uno dei principali teorici della supremazia della razza ariana era un francese Joseph Arthur de Gobineau è morto a poche centinaia di metri da qua nel 1882 si è preso un infarto a Porta Nuova adesso è sepolto al cimitero monumentale riposi in pace quindi non se la prenda con me e con i miei connazionali perlomeno ai miei tempi l'antisemitismo torniamo alla musica il tema romantico della redenzione dal male grazie a un atto d'amore spinto fino all'estremo sacrificio torna nelle sue opere successive Tannhäuser nel 45 e Loengrin nel 48 sono entrambe come dire di ambientazione tedesco medievale infatti le ho definite opere romantiche non ancora drammi musicali come succederà dalla tetralogia in avanti allora siamo al punto di svolta provi a sintetizzarlo ormai avevo il mestiere e l'esperienza per creare la mia opera maggiore ci pensavo da molti anni una vera opera dell'avvenire anzi quattro opere un'unica vicenda suddivisa in un prologo e tre giornate che dovevano essere rappresentate in sequenza una per giorno ispirandomi ai poemi nordici all'Edda al Nibelungelid avrei raccontato l'avvento di un'umanità purificata dalla sete di ricchezza e di potere libera da patti e leggi ma dove questo riscatto poteva realizzarsi solo a prezzo della totale distruzione del vecchio ordine sociale in un olocausto immane dove sarebbero scomparsi non solo i vecchi dei ma anche gli eroi che dovevano rappresentare quello che è puramente umano lei era conscio che nessun artista e meno che mai un musicista d'opera aveva mai concepito una cosa del genere certo ma erano anni strepitosi il 48 aveva cambiato l'Europa io non facevo altro che leggere Proudhon Hegel Feuerbach Schopenhauer alcuni critici sostengono che non è che li avesse proprio capiti bene bene i soliti filistei ma poi cosa importa l'idea della tetralogia è mia e di nessun altro come al solito lei ha cominciato scrivendo il testo io mi sono sempre preso le mie responsabilità la procedura era più o meno sempre quella prima scrivevo il testo ne facevo qualche lettura pubblica e se trovavo i soldi lo stampavo poi quando tutti lo conoscevano mi mettevo a comporlo però ha cominciato dal fondo non è esatto per l'avversificazione ho cominciato dalla morte di Siegfriedo e poi ho proceduto a ritroso ha fatto i prequel di cosa diavolo parla? no mi perdoni mi perdoni la musica invece l'ho cominciata dall'inizio e qui c'è l'aspetto che più mi affascina lei oltre alla genialità dell'invenzione ha avuto una perseveranza più unica che rara la prima opera del ciclo l'oro del reno ha finito di comporla nel 1854 ed è andata in scena nel 1869 dopo ben 15 anni la seconda la valchiria l'ha finita nel 56 ed è andata in scena nel 70 dopo 14 anni poi ha cominciato Siegfriedo però a metà mi sono fermato per 12 anni e siccome le ho detto il testo già c'era ho deciso di scrivere Tristano e Isotta tra il 1857 e il 1859 testo e musica in un paio d'anni un fulmine andiamo sia serio Tristano è andato in scena nel 1865 dopo solo sette anni di attesa quasi contemporaneamente ho pensato ai maestri cantori di Nolimberga dopo la rappresentazione a Parigi del mio Tannhoiser nel 1861 ah sì che è stato un fiasco colossale con tanto di rissa generale tra gli spettatori dei parigini sono degli ignoranti per fortuna nel 1870 glieli abbiamo date di santa ragione maestro scusi mi perdoni dimenticavo che in effetti Germania a parte la Francia è la nazione che più mi ha amato e non le pare paradossale gli sconfitti che impazziscono per la musica dei vincitori in effetti comunque i maestri cantori sono andati in scena nel 1868 e subito dopo ho rimesso le mani su Sigfrido e poi sul crepuscolo degli dei che chiude il ciclo ho messo la parola fine sulla partitura nel 1874 e nel 76 tutti hanno potuto ascoltarlo tutte e quattro le opere di seguito in quattro giorni per la prima volta è assolutamente straordinario un progetto che lei ha portato avanti per 30 anni immenso e quasi impossibile da mettere in scena adesso non possiamo dilungarci sull'anello del Nibelungo ma per allora e anche per oggi a dire il vero le difficoltà tecniche sono immense tanto per farci capire ci può dire cosa ha messo nella didascalia della prima scena dell'oro del Reno cioè insomma l'inizio di un'avventura che in totale fa quasi 19 ore di musica la scena rappresenta il fondo del Reno ah quindi siamo sott'acqua appunto crepuscolo verdognolo più luminoso verso l'alto più scuro verso il basso la parte superiore è piena di acqua ondeggiante che fluisce senza sosta da destra a sinistra in profondità i flutti si sciolgono in una nebbia umida sempre più sottile così che lo spazio dal suolo ad altezza d'uomo sembra del tutto libero dall'acqua la quale scorre via sopra il fondo del colore della notte come una fuga di nubi ovunque scogliere scavre si ergono dal basso delimitano lo spazio della scena tutto il terreno è spaccato in un selvaggio groviglio dentato così che nessun luogo è completamente pianeggiante e in ogni direzione lascia immaginare più profondi abissi nella più fitta tenebra intorno ad uno scoglio al centro della scena che con la sua punta slanciata si erge fino alla corrente più fitta e alla luce più chiara nuota in cerchio graziosamente una delle figlie del Reno ma come diavolo fa un regista a mettere in scena sta roba non è un problema mio e vabbè e allora proviamo a vederlo il preludio è di una semplicità magica lei vuole descrivere l'inizio di tutto in un'antichità remota solo un suono primordiale e fondamentale da cui sembra che tutto possa derivare una specie di creazione ma pagana poco per volta a strati successivi l'orchestra esegue un immenso accordo di mi bemolle maggiore e noi ci ritroviamo nel fiume con le tre figlie del Reno che nuotano scherzano e custodiscono il magico oro che è nascosto nelle profondità quando appare il nano alberi loro lo prendono in giro perché è sgraziato e repellente lui le desidera ma dato che loro lo rifiutano lui maledice l'amore pur di rubare quell'oro che gli darà il potere ma lo porterà alla rovina ma ecco vede qualche regista ci è riuscito mi sembra che questo allestimento rispetti le regole che gli ho dato no? l'hanno fatto a Valencia la regia è della Fura del Bauls che nome strano ma sono molto bravi sa? si si è vero ci dica adesso dei leitmotiv c'è dei motivi conduttori io non ne ho mai teorizzato il loro uso vabbè però il suo modo di comporre è inequivocabile allora in pratica quasi ogni oggetto personaggio concetto astratto stato d'animo che appare in scena è accoppiato con un preciso tema musicale che riappare ogni qual volta quel personaggio o concetto ritorna come un segnale perché banalizza tutto lei la musica segnaletica è un'altra cosa ah sì beh il silenzio militare il segnale di occupato al telefono la sirena delle ambulanze appunto qui le cose sono più sottili ogni tema è costantemente variato riappare per intero o per frammenti poi molti avvenimenti nella tetralogia non si vedono in scena ma vengono raccontati così nel corso della narrazione i temi riaffiorano come nella tragedia greca appunto se un personaggio anche se non lo dice prova un particolare sentimento o semplicemente pensa a qualcosa è l'orchestra che ce lo suggerisce e ce lo fa capire straordinario lo dovrebbe far ascoltare a questo nostro pubblico un qualche esempio certo solo che ci vorrebbe un sacco di tempo perché le emotive sono molte decine mi limiterei a far vedere la scena in cui sul fondo del fiume appare l'oro si sente il suo tema che risuonerà ogni volta che un personaggio lo desidererà lo toccherà o ne subirà la magia ecco però un momento non voglio rimangiarmi quello che ho detto su questo allestimento lei ha tralasciato un elemento molto importante quale? allora le mie opere non erano pensate per i teatri normali quelli con la platea con i palchi con l'orchestra in bella vista dato che l'azione scenica è un unico blocco in cui la musica è solo uno degli elementi insieme al testo la recitazione le scene eccetera nulla deve distrarre lo spettatore l'orchestra non si deve vedere solo il palco deve essere illuminato nella sala buia nulla deve distrarre dalla rappresentazione ma e allora questa somiglia più a un rito che a un intrattenimento un rito sicuro come nell'antica Grecia il pubblico oggi non ci fa caso ma senza di lei il cosiddetto buio in sala non esisterebbe ai tempi del trovatore ad esempio il teatro era tutto illuminato anche perché non c'erano ancora il gaso l'elettricità per i punti luce le centinaia di candele di quegli immensi lampadari non si potevano certo accendere o spegnere a piacimento la tecnica mi ha molto aiutato ma il mio teatro era progettato per quello ah già già il suo teatro perché lei è riuscito a trovare qualcuno che glielo pagasse io volevo che le mie opere fossero rappresentate in un teatro costruito appositamente senza i palchi con l'orchestra invisibile in una cittadina di provincia dove la gente venisse una volta l'anno ad assistere ad un festival dedicato solo alle mie opere ha trovato il pollo eh ma non sia così prosaico ma sono realista lei è sempre vissuto al di sopra dei suoi mezzi io solo nel lusso potevo lavorare anche per questo i decadenti l'ammiravano guardi le incombenze della vita quotidiana sono dannose per l'artista ah ecco perciò lei esigeva appartamenti lussuosi servitori certo tappeti gioielli sì cibi raffinati e beh tanto non pagava mai lei guardi il mio mecenate era un giovane principe illuminato e devoto alla mia estetica e alla mia poesia ah Ludwig secondo di Baviera diciamo pure che era un pazzo che ha mandato in bancarotta il regno pur di accontentare i suoi capricci bellezza e sfarzo erano per me imperativi categorici da cui non potevo assolutamente sottrarmi eh a spese materiali e morali di chi più l'amava lei mescolava senza alcun rimorso cuore e portafogli era una sanguisuga che ha prosciugato chi le stava vicino sta forse facendo insinuazioni sulla mia prima moglie anche lei l'ha cacciata e la povera minna pure rovinata ha continuato ad amarla e cosa vuole e dovrebbe vergognarsi in nessun caso come nel suo l'uomo e l'artista sono profondamente separati da un abisso morale che paroloni e poi insomma senza qualche astuzia come avrei potuto compiere la mia immensa opera beh di questo non posso che dargliene atto nel 1871 Ludwig II le fa avere il terreno per il teatro su una collina nella ridente e sconosciuta cittadina di Bayreuth ma mica bastava ho dovuto convincere il borgomastro e i banchieri del posto qualcuno era pure ebreo non mi dica non stiamo a sottilizzare gli investitori privati erano fondamentali e poi il denaro non ha odore allora guardiamolo questo teatro che è attivo ancora oggi e tutte le stati ospita il suo festival queste sono sequenze di un bel documentario di Stephen Fry per la BBC sono certo che comunque il nostro pubblico comprenderà perfettamente l'inglese non solo lei ha rivoluzionato la storia della musica ma ha anche inventato il concetto stesso di festival culturale era la prima volta che la gente da tutta Europa e anche dall'America doveva prendere la nave o il treno viaggiare per molti giorni solo per assistere a un avvenimento musicale in un luogo specifico niente a che fare con il pubblico che la sera prendeva la carrozza e andava a teatro solo per farsi vedere nei palchi era il pellegrinaggio a Bayreuth in Francia il direttore del conservatorio di Parigi pubblicò un manuale in cui spiegava tutte le mie opere ma diceva anche come prenotare gli alberghi acquistare i biglietti cosa portarsi in valigia quali ristoranti frequentare dove trovare i souvenir era nata l'industria del turismo culturale e lo dobbiamo a lei grazie però ora basta no davvero le ho dedicato anche troppo tempo molto simpatico molto bene se non le dispiace adesso io me ne vado e la prego mi raccomando venga la prossima estate a Bayreuth eh ma è un po' tardi i biglietti sono talmente ricercati che bisogna prenotarli con più di un anno d'anticipo prenoti ragazzo mio prenoti ma costano un capitale sono un lusso guardi allora lei deve fare come disse Voltaire posso rinunciare a tutto ma non a lusso arrivederci arrivederci ma non se ne vada oh ma santo cielo un grande scrittore del novecento Saul Bellow premio Nobel nel 1976 una volta ha scritto che se Leone Tolstoi fosse venuto ad abitare nel condominio di fronte al suo lui non sarebbe mai andato a suonargli il campanello perché Tolstoi era tutto nei suoi romanzi era per quelli che lui lo amava intensamente se per caso conoscendolo di persona lo avesse trovato antipatico o meschino tutto quel fantastico edificio di pensieri che affollavano la sua mente ogni volta che rileggeva Guerra e Pace sarebbe crollato per sempre con Wagner viene voglia di fare esattamente la stessa cosa non solo per le immense contraddizioni del suo personaggio ma anche per gli incredibili effetti collaterali che le sue opere hanno avuto nella cultura europea Wagner non ha niente a che fare con Hitler ma nei Lager si suonava la sua musica e perciò finché sarà in vita qualche reduce dai campi di sterminio sarà molto dura suonarlo in Israele anche se fior di musicisti ebrei lo adorano e come non potrebbero il primo direttore del Parsifal a Bayreuth nel 1882 si chiamava Hermann Levy ed era figlio del gran rabbino dell'Asia Wagner per la sua ultima opera che definiva dramma sacro aveva voluto solo lui strano per un antisemita non di rado le opere sono migliori degli uomini che le scrivono forse perché nella creazione artistica gli uomini diventano altri rivolando involontariamente aspetti della loro personalità di cui non possono o a volte non vogliono non vogliono rendersi conto tutto l'armamentario critico filosofico di quei disordinati scritti politici estetici e tutta l'importanza della sua riforma drammatica impallidiscono di fronte alla straordinaria rivoluzione musicale che Wagner ha operato portando alle estreme conseguenze tutte le premesse romantiche dividendo nettamente in due la storia del linguaggio musicale dell'ottocento nel 1854 Wagner aveva confessato in una lunga lettera al suo protettore Franz Liszt poiché in vita mia non ho mai gustato la vera felicità dell'amore voglio erigere al più bello dei miei sogni un monumento nel quale dal principio alla fine sfogherò appieno questo amore ho sbozzato nella mia testa un tristano e isotta un concetto musicale della massima semplicità ma puro sangue col bruno vessillo che sventola alla fine del dramma voglio avvolgermi per morire undici anni dopo il 10 giugno 1865 a Monaco di Baviera ovviamente col contributo finanziario di Ludwig II andava in scena il Tristano e Isotta e da allora nulla è più stato lo stesso non solo nella musica ma anche nella letteratura nella pittura e in tutta la cultura europea quando alla fine dell'opera sprofondando nella notte Isotta si accascia sul corpo di Tristano dopo un ultimo immenso canto d'amore tutto di fronte a noi svanisce non ci sono più regni non ci sono leggende anelli magici potere denaro ci sono solo due persone che si sono amate aveva proprio ragione Marcel Proust quando scriveva più Wagner è leggendario più lo trovo umano e il più splendido artificio dell'immaginazione non mi sembra che il linguaggio simbolico e sorprendente di verità morali grazie grazie